Cuoricini, cerchio e seno, uno dei tanti cuoricini apportati dai figli trapassati, in genere alle madri. Spesso questi apporti sono espressi nella forma di un sassolino, oppure in un cuore, che il cibo assume in un piatto, in un cuoricino trovato per caso in strada, in auto, dove il cuoricino si materializza improvvisamente, mentre il genitore pensa al figlio trapassato, in qualsiasi modo il figlio, in genere morto giovane, possa confermare ai genitori che lui continua a vivere e che gli vuole bene.